Siamo già andati? E' un momento di transizione quando fuori c'è il sole e incendiamo tutto. E' un momento di transizione quando fuori c'è il sole e incendiamo tutto. E' un momento di transizione quando fuori c'è il sole e incendiamo tutto. Va bene. Vaffanculo! Ma si è sistemato il colore. Si è sistemato il colore, puttaaaaa! E' vero noi uniamo di qua, si è messo tutto aperto. Ci sentivano pure i vicini che lontani proprio. I vicini lontani. I vicini lontani. Siamo proprio vicini. Lo sai dicendo davvero? E sono vicini lontani. I vicini si chiamano vicini di cognome. Si? E' bellissima. Che cazzo fai? Questo lo metto all'inizio del video adesso. Dai. E' bella questa cosa extra. Buona questa cosa extra. Ciao a tutti ragazzi. Io sono Dalvis. Io sono Ray. E io sono Locke. Ros. Aspetta. Ma cos'è sto gioco di merda Ray? Cos'è sto gioco di merda Ray? Cos'è sto gioco di merda? New game! E' soprattutto prendere il chiosco. E' una chicca del passato. E' una chicca del passato chissà. Io mi ricordo assolutamente nulla. Non come... Ah! Siete in due. No no no. Si si. Switch player. Se faccio così vado con lui. E usa lei. No usa lei di brutto. Perché lei ha il doppio salto. Cambiava. E lui invece non mi ricordo che cazzo. E' un cazzo di platform comunque. 3D 2D. 3D 2D. Madonna. 3D. Più 3D che 2D. Perché noi giriamo sulla tv in HD. E dovete sapere che se collegate queste console alla tv in HD. Questo ha il potere ghiacciolo. Succedono cose brutte. Però è più... E' vero. Noi lo vediamo con mille righe. Però voi dovresti vederlo normale. Ma sparano anche? Si ha i poteri. Ma io non mi ricordo. Me l'avevi prestato una volta e poi l'avevo quittato. Ma tu schiacci a qualcosa e non fai niente. Non puoi giocare. No no no. E' un single player. Sai perché ha due personaggi che puoi giocare in due? No eh. No. E' una cazzata. Mi viene malaglio. E' una cazzata. All'epoca. E' una cazzata che non l'hanno fatto. Ah no. Stati sulle angurie. Si. Ma qua è importante prendere i soldi. Ma sapete cosa mi ricorda sto gioco Knights? Come uso del 3D. Si. Come grafica. Si. Ma cosa serve a prendere le monete? Vabbè come Super Mario cosa serve a prendere le monete? Serve perché... E non prendola allora. Le salti tutte. Le stai proprio evitando. Metti che ne prendi una di troppo. Si però non mi si sente perché sono stotto. Oh no. Il vestito è stotto dritto sempre. Mi sento a disagio di un gioco che piacerebbe. Vero. E' la prima volta. E' la prima volta che hai rotto il cazzo. E non so che hai rotto il cazzo. E' la prima volta che Ray porta un gioco suo che non aveva giocato noi. No. Ha portato a disposizione la console. Addirittura ha portato la console. No ma la console è vero. La mia minchia non l'ha realizzato adesso lui. Ha proprio realizzato il suo sogno. Madonna. Dove spai i cuori? Ma... Da un copero. Lì c'era un segreto. Perché? Lo sa eh? Ma fai il gioco. Ma prendi tutto. Fai vedere questo gioco e magari qualcuno va a riprendersi. No. Dovevo prendere... Che cosa? Il segreto che non prendi? La grafica sembra che peggiori si piglia. Almeno a nostra vista. Ma spara all'infinito. Ma se cosa ci vorrebbe da questi vecchi giochi una tv vecchia? Si. Adesso prendiamo anche la tv vecchia. Però non puoi giocare con l'elgato. C'è volte un tubo catoio allora. E non puoi con l'elgato registrare sul tubo catoio. Si. E' un paradosso. Quindi si è fottuto. Noi siamo condannati a giocare bene. Male. No però è bello l'uso. Tratto è anche lungo. Si perché alla fine è 2D. Gli livelli sono lunghi. E 2D ma ti si gira lo schermo a mozzo. Si gira i coglioni. Vedremo. No. Ho sbagliato. Non ci sono buchi eh. Aspetta. Aspetta. Ma questo è il primo livello come Super Mario livello 1. Nooo. Nooo. Vabbè le 2 e 3. Nooo. Anche nel World. Nel World siamo andati per i primi video. Ma guardate che ho controllato. Nel World. Più puntate del Bros 3. Abbiamo fatto. Perché è più lungo. No. Non abbiamo fatto più. Si si. No. Ma abbiamo fatto tutti i cazzo di bonus. Ci sono mille bonus. Non dire cazzate. Non ci sono mille. Sono otto. Ma a parte quelli. C'erano i Star Roar. E Star Roar gli abbiamo fatto mezza puntata. Dai vabbè. Vediamo come ti difende. No perché abbiamo fatto poco schifo negli special semplicemente. Ah beh. Ma guarda che erano i special. Non era da fare. Io. E no. Quindi non conta un cazzo. Quindi adesso devi puntare. Qua ti butti tranquillo. Ma tu lo sei a un segreto. Tu te lo ricordi a un segreto. C'è un segreto e poi non lo prendo. Dai l'ho preso. Vabbè però la grafica così è bella. Vedi adesso se muori qua questo è un checkpoint mi pare. Se muori qua. Solo se muori c'è il checkpoint. Se muori lì. Se muori il checkpoint te lo dà. No. Per noi siamo abituati a non prenderli. Una chiave. Una chiave. Ah bello così va. Però qui ci sono dei soldi quindi vado. Schiaccia. Sì. Questo è un perduto. Io non ho capito cosa erano i soldi. Tipo ti danno le vite, ti danno dei tesori e alla fine. Una roba del genere. Sono cose da prendere. Adesso non sei contento che prendi le cose. Ah ma perché ha quelle due o tre componenti esplorative comunque. Sì. Ah sì. Non è proprio platform base. Ti sei letto un articolo prima di venire. Eh? Ti sei letto un minimo pronto. No. Non ho letto niente. Un articolino. Sai mi hanno dovuto sapere che questo gioco è stato creato dallo stesso. Ho letto giusto oggi che. Che. Dallo stesso che ha creato. Che noi il timer non lo facciamo partire noi. Quindi questo sarà almeno 10. No no. C'è scritto lì 5. Vedi? No perché stai andando flawless questo gioco di merda. Oh che bello. Però era bello l'epoca comunque. Vabbè ma sarà ancora un bel plattro. Ma alla fine sono quei giochi. Ma puoi spray? Ah no perché ti saltai solo. No ma non ho il potere. Ma poi le vite gli aumenti. Non ho il potere. Cioè non ho il potere. Sai che poi dopo prendi il potere. Torni indietro a farti i livelli. No. Il potere ti va. Tipo come fosse il fungo. O il fiore. Ah li trovi? Sono dei power up quindi. Quello rosa che ho preso prima. Ah che sparavi. Non puoi sparare. Sotto ce n'è una rosa. L'hai evitato come meglio potevi. Sotto ce n'è una rosa. Secondo me stai poi evitando dei segreti. Comunque. No mica lo sto prendendo tutti tipo. Tutti. Tuttissimi. No tutti no. Eh no. Tutti è un po' eccessivo. Io non ho ancora visto dei buchi eh. Io te lo dico. Non ho ancora visto opzioni di morte. Beh poi hai solo più una vita. Ma senti il salto. Boing boing. E' un classico boing. 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 Ma Patti a boing non dovrebbe essere eronico come stile se non sbaglio. Si non è buongiorno. Ma è lungo. Ma non è super mario eh. Tutti i segreti eh. Tutti tutti. Fagli la foto che non sali un cazzo. Vabbè maraviglia vai. E' vero. A parte che ce la guardiamo su gamefaxle a massimo le passo. Ah posso andare. Prova lui. Prova lui. Ma che schifo il tuo è veramente disgusto. All'untume. Lo dico qua perché poi non mi sento. All'untume di dieci anni fa. Direi. Direi che c'è l'untume. E mi fa proprio schifo. E' il grasso di foca. Ma non c'erano con questo che è pulito nuovo. Guarda. Oh cazzo. Che cazzo fai? Ma siamo un coglione. Ma Gabby sei un co... Ci siamo una testa di cazzo così. Guarda qui. Maaah. Ma perché? Ve la buttare la martella. Ve la vatti madonna. Me lo ricordavo un po' più pesante. Non è qualche schiaffetto ma sono pratico. Eeeeeee. Non guarda dai. Di solito mi graffiano anche. No vabbè. Nel senso. Io me lo ricordo un po' più pesante. Prova il pagliaccio. Riangolo. Si. Riangolo si si. Oh ma i comandi sono uguali per tutti i giochi del mondo. Io adesso non so il gioco. Comunque vabbè. Vabbè. Non mi sembra che ci voglia un dio del male per vincere a questo gioco facile. Com'è che spari? Non lo spari non ha il potere. Adesso hai un cuore. E' un cuore. Ah parto proprio con un cuore. Qui sono il primo che vogliono a morire. Si. Secondo livello. C'è un nemico. Prova dei tasti. Prova dei tasti. Prova dei tasti. No. Non fa niente. Ma picchia con questa. E questa è la particolarità. Bello. Vedi? Come fai saltare più alto? Come? Ah no no aspetta. Devi usare la tipa. Ah ma lui salta basso? No. Lui salta un salto solo. E vabbè. Ma vedi che sei un coglione. Cioè tu mi fai usare il ciccione qua. Non è un ciccione. E' un giullare. E' un buffone. Salta un metro tipo. Ah ah ah. Cioè prima di usare la picchia. Anzi lei salta uguale. Solo che salta due volte. Scusa eh. Ma non lo fai. Quindi qua non puoi farlo. Anzi prendi le vite se lo fai. Guarda che devi far fatica. E' difficile così. E' più difficile con lui. Guarda che dovremmo usare solo lui allora. Ha preso una vita. No già. Ma che bello è? Ma ho paura di prendere la rincorsa. No ma non c'è i tuoi di tassi della rincorsa. Ecco vai torna sotto. Bravo coglione. No ma veramente. Guarda che poi mi fanno sempre farmi vedere le figure di merda. Ma guarda che sono dei bastardi. Ma sei un coglione. Perché i comandi non vanno. I comandi non vanno. E' pure il tuo padre quindi non pare il cazzo. E' perché sono tutti i giorni che gioco la play 1 in effetti. Ma guarda che no. Guarda perché non puoi saltare due volte. Non c'è un cazzo. Qua serviva proprio salto doppio comunque. E' questo non ricomincio. Pause select to quit. Yes si. Yes si. Ma tu ce l'avevi in inglese. No ma così dobbiamo fare il primo. Ma tu ce l'avevi in inglese. Ma dobbiamo fare non il primo livello. Bravo. Password. Mi hai fatto la cosa. Ma sei un coglione. Com'è il game fax? Adesso io prendo. Allora dammi. Allora lo rifaccio veloce. Ma va. Ma va. Non ci fai di vent'anni a farlo. Fai fare sta password. Ma va? Si. Non si ricorda niente. Beh comunque intanto che adarvi cercare la password. Password. Ha tenuta. Enter password. Ma vuoi far ricordarselo? L'ultima. No l'ultima che c'è. L'ultima che c'è Saric. Meno male che io so come si carica. Meno male va. Vabbè comunque niente. Raccontevo dopo la storia. C'è una storia lì. C'è una storia lì. Ma cosa hai switchi? No cos'è la tipa? Tengo la tipa. Ovviamente butto un pezzo di mano. Comunque non è così ovvio il salto doppio eh. È un salto doppio. È un salto doppio. È un salto doppio classico. Però hai i suoi contro. Prova a farlo. Ma adesso perché Ray... Ma che Ray è il campione del mondo del salto doppio. No ti sto dicendo che non è... C'è proprio più comodo il salto doppio. Vabbè ovvio. Che è più comodo il salto doppio. Un platform. Perché dovresti usare l'altro? Perché c'è anche più difficile. Ma non è per quello. Non è per quello. Non è che l'abbiamo pensato comunque la concezione. Guarda la storia. No i giochi è un gioco vecchio eh questo. Non è... Sì ma play 1 è già non è... Ma il doppio salto lo prendi questo. È vero che già c'è doppio salto. Mi ero abituato già al coglionaggine che... Al coglionaggine. Al coglionaggine che era l'altro. Comunque mi pare che adesso va a rivincire. C'è una cosa che torna giù. Cos'è quella cosa che scappa? Una chiave. Devo prenderla? No. Ma come no? Non so così. Non mi ricordo. Vai giù. Vai giù veloce. Corri. Prendili però i soldi. Ah ma si chiude? Sì sì. Ah cos'è sta roba? Ah è tipo corri per scappare da quella roba. Corri da quella cosa no? Non ti devi far chiamare. E dove vai a finire però? Ti ammazza. Torna all'inizio. E ricominci? No no no. Vai avanti. Non è divertente così all'apparenza? Vabbè si vede. Il classico platform è carino comunque. Cioè adesso sono curioso di sapere quanti ci hanno giocato. Veramente. Questa è una chicca. Scriveteci. Scriveteci. Aspetta. EGG. Però comunque anche cambi gioco. Guarda che sembra veramente 3D che puoi muoverti. No ma che puoi muoverti in 3D. Ma cagli. Non farei flawless. No è solo un 3D su binari. In realtà è un 3D su binari che... Che io arrivavo fin lì. Alla sopportazione. Perché vedi Mario 64 e giro e vado hai capito? Così va bene. Invece così va bene. Adesso riparte flame. No 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 riparte. Però ti dico solo la differenza. E beh per esempio però Mario 3000. Prendili. Prendili i soldi. Cazzo. Ogni volta. Io non ho ancora capito. Ma te l'ha detto. Tu prendili nel dubbio porco. Ma perché è proprio un completamento. Ma perché vado flowle. Madonna mia. Perché ti dice completato. Prendilo. Ti dice completato al 60% mi da fastidio. Vabbè comunque. Invece facendo. Saltato. Che panico va. Guarda che sto sudando eh. Vabbè comunque. Tipo Mario 3D Land. Allora che vai dove vuoi. Vuoi iniziare flame. Vuoi iniziare flame. Abbiamo giocato. Abbiamo giocato insieme. Wow. Easy così con la tizia. Aspetta. Quello per Wii U. Adesso già il terzo è. Moabee. Te le salva. Te le salva. Ma se le ricorda tanto le parole a caso le le senti bene. Mettevo Moabee. Tu sai cosa potevi fare di lavoro? Il coglione. Le passo. Il generatore di passo. Il generatore di passo. È un lavoro penso. Allora. Ha fermato. Analogico non va. Mi scusi mi chiede una passo. Ma meglio. Se lo accendo non va. No non fai niente. Se lo accendo si mette di funzione tutto. Dei giocare col cazzo di coso. Andiamo. Come fa andare analogico? Mi spieghi come fa andare analogico nella play 1 brutto coglione. C'era del Dualshock nella play 1 brutto testa di cazzo più avanti. Non ti fotte. Madonna Gesù. Fai il doppio salto giù. Due x. Non fa. Ah qua non lo fa. Due x. Fai doppia volta. Due x è un altro tasto. Due x. È dietro. È il tasto due x. È una punta. Fai il doppio salto. Eh lo sto facendo. Bell'uomo che qua ha riscosso successo. Tra l'altro. Io non ho mai giocato come la Locke. Vero Locke. Che schifo Locke. Che schifo Locke. Che tu non giochi ai giochi. Ma non che schifo ai giochi. A me diciate che è schifo che non ho giocato un po'. Gli uomini sono ammaliati da me. Voi non capite un cazzo. È vero. Tu sai cosa li rapisci. Gli rapisco i maschi. I maschi. In casa tutti i maschi rapisci. I maschi sono. Perché sai che ho un potere ciarmico. Fai sotto lì. Buttati giù. Poi mi è piaciuto. Ma stai calmo. Madonna. Ho già detto tre volte. E prendi le monete. No da stali devi sparare. E poi prendi le monete. No prima prendi le monete. Spara. Prendi per due. Ma non ne hai preso una. Non ne hai preso una. Guarda che sei vergognoso proprio. Aspetta non sparare. Guarda prendi quelle merda e non prendi per due. Avete fatto il cazzo con sto cosa già eh. Prendi. Eh sto prendendo. Guarda che sei vergognoso non avrei mai giocato a pandemonio. Eh lo so. Minchia madonna. Vedi il due. L'ho preso. L'ho preso. Non ho preso il cazzo a me che non ho giocato alla Super Mario World tipo. Cazzo tu a sta roba. Dura tanto ma è avanti. Ma che cazzo te le fotte. Eh devi fare 100% eh. 100% Entriamo. Vabbè. Comunque. Bella la mia barba. Però ragazzi commentate. È bella. Guarda che sai che non è andato avanti il timer. Sì. Quando sei andato siamo andati in background. Sì. Non è andato avanti. Perché è possibile. Siamo a 15 minuti tipo. Sì ma è considerata un minimo di cosa. Sì due minuti non sei eh. Vabbè ma non cagare il cazzo. Quando durerà 20 minuti. Ma non 20. Ma la sdoppiala. Sdoppiala. Ma no non la sdoppiala che la facciamo bene. Ma no. Facciamo bene. Ma cosa stai facendo. Non lo so mi state agitando. Va bene. Basta. Devi andare avanti. Basta. Basta. Perché mi sto innervosendo. Devi andare avanti. Eh. Vedi bravo. Madonna. Spare questo ragno di merda. Ma. Madonna. Allora stavamo dicendo che sono bello. Continuate a dire che sono bello. Ah no. Ma perché come è indietro. Perché c'è un bonus. Ma non è 3d da esplorare. Ma è matto. Madonna. Ehi ti sei masturbato prima di venire qua. Perché mi sa di no. Sì. Sì. Sapete io ho fatto un errore. L'ho lasciata una a metà. Cosa vuol dire scusami. È sega. Ah. Cosa secondo te. Cos'altro posso fare. No. Sei pazzo. Lo so. Ma è il doppio salto. Cris. Se no prendi il pagliaccio. Eh. Perché sei un pagliaccio. Eh sì. Infatti sono fastidio i testicoli. Adesso hai fermato. Perché l'hai fermato a metà. Perché mio padre mi ha chiamato per andare a mangiare. E tu ti pensi a capire di mangiare. Eh beh non lo voglio. Cuore prendi la vita. C'è un cuore. Prenditi prego. Mi fa. È pronta. Fa perché parla come Diego. È mio padre. Ma guarda che non capisce. E ma non lo fa. Ma dico. Perché non è ovvio. Te l'ho detto che non è ovvio. E lui invece è ovvio. Mi hai schiacciato due volte subito. Due. Due x. Ce l'hai tasto due x. Eccolo qua. Ma non stai facendo il primo salto. Oddio santo. Oh. Oddio santo. Oh. Oddio santo. Non è così. Oh. Dai veramente. Ti fai. Allora. Non vorrei che non si cade ancora in sto gioco. Perché veramente. Perché se no è un cazzo amare. E lui. Non ci gioco. Oddio. Allora di quando si cadrà. Lo vedremo nella prossima puntata quando si cadrà. È vero. Nella prossima puntata. Questa magari è due a di meno, due a di più. Chi lo sa. Non lo sapremo. Non lo sapremo. In futuro. Clicca clicca clicca. Non vi preoccupate. Torniamo fra un secondo. Fra un secondo.